ovviamente ci penso a lui, ci penso a quanto le canzoni possono fare male una cosa che voglio dire su Tenko è che secondo me le canzoni di Luigi Tenko erano veramente piene di speranza, non erano assolutamente canzoni tristi, erano canzoni urgenti e penso che una frase come mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare sia una delle cose più belle che esiste ci spostiamo di nuovo a destra, braccio alzato, camicia azzurra Radio LCS Verona allora a parte, intanto i miei complimenti perché insomma le altre canzoni hanno 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9 per una canzone e te sei io e invece la mia, 1 intanto, allora a parte Tenko i tuoi cantautori che è un mondo particolare, un mondo a parte i tuoi cantautori preferiti, a parte Tenko che l'abbiamo capito dopo i miei genitori Lucio Dalla Lucio Dalla Fabrizio D'Andrea anche queste sembrano cose ovvie ma comunque si dovrebbe soffermare almeno una volta alla settimana ascoltare come è per un punto normale soprattutto in questo periodo storico grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti